Sono Susan Ortega e io sono Evan Baxter. Vediamo le notizie di stasera. Poteva scoppiare uno scandalo oggi nel dipartimento di polizia di Buffalo quando il sindaco ha chiesto al... Quando il sindaco ha chiesto al capo... Quando il sindaco ha chiesto al capo della polizia di rispondere con una dichiarazione pubblica. Scusate, c'è qualcosa che mi si è incastrato. Portategli subito dell'acqua. A quanto pare il mio nuovo collega ha bisogno di un bicchiere d'acqua. Ecco, faccio. Scusatemi. Passiamo alle altre notizie. Il primo ministro svedese è venuto in visita a Washington oggi e i miei capizzolini piccini picciò sono andati in Francia. Che cosa ha detto? Controllate il gobbo. Il gobbo è a posto. Evan, leggi quello che c'è scritto, per favore. La copia è esatta. Leggila e basta. Il comitato della Casa Bianca ha ricevuto il primo filetto d'abbacchio del ministro. E io ballo il cia-cia-cia come una muccia-cia-cia. A me me gusta fare il cia-cia-cia. Scusate, forse ci sono alcune difficoltà tecniche. Passiamo a un altro servizio. Mille scuse. Scusate, forse ci sono alcune difficoltà. La cacca pupù. Pipì! Mia! Mungu! Ma che pombrano! Mungu!